ciao a tutti e c'è tipo io adesso il mio canale mi ritrovo 10.000 iscritti c'è tipo mi sono messa a piangere infatti adesso sto pure piangendo perché c'è allora avevo preparato un video infatti poi tipo inizierà con lo in cui per lo speciale faccio tipo i regali e di un video scorso che tipo io vi ringrazio veramente cioè mi sto sentendo male c'è tipo io avevo aperto il canale per per battere mio padre perché perché io e lui non abbiamo buoni rapporti e quindi la volevo battere essendo che pure lui è un canale youtube però ho trovato persone che mi vogliono bene ho raggiunto 10.000 iscritti mi sto sentendo male c'è tipo io non pensavo di arrivare a tutto c'è c'è veramente vi ringrazio ora però vi lascio il video grazie a tutti 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 grazie a tutti